La cultura del caffè di qualità Il caffè di cacao prodotto da contatto con l'assessore Bizzo cui è finito per donarglielo. Mi piace molto la capacità di posizionamento dell'azienda Illy attraverso l'arte e la cultura, nella grande contaminazione con i grandi artisti, perché come ben detto prima, i consumatori vogliono mangiare per stare bene, ma vogliono anche mangiare per essere. Ebbene, chi ha coraggio e la creatività può innovare anche nel campo dell'organizzazione e quindi creare strutture organizzative della sua impresa che consentano all'impresa intera, non tanto, non solo al processo produttivo, di funzionare meglio e quindi consente alle imprese e di essere competitiva. Buonasera.